a buongiorno ben arrivate nel mio canale mi presento sono rossella questo è il mio canale la maglia di rossella questi sono tutti i tutorial che ho eseguito nel periodo di agosto ottobre ce ne sono di tutti i tipi sia piccolini da fare in poco tempo che un po più impegnativi come il il vestitini per le mie nipote dunque ci sono anche scarpette invernali ovviamente cose estive cose invernali ovviamente perché da ottobre ad agosto ottobre quindi c'è un po di tutto anche scarpette di natale ok anche soprattutto ci sono delle tabelle ne ho fatte quattro e le trovate nella playlist tabelle e misure tutti i miei tutorial sono divisi anche nelle playlist che trovate in alto vicino video c'è anche playlist cercate nelle playlist è più preciso trovare i miei tutorial vi lascio quindi ciao a tutte e buon proseguimento con il video a tutti i miei tutoriali a tutti i miei tutoriali a tutti i miei tutoriali